Finisce in parità 1-1 il match tra Ponte Valleceppi e Branca. Branca in casacca blu, mentre il Ponte Valleceppi nella consueta casacca bianco-rossa. Andiamo subito con le riprese di Luca Melograno ai highlight del match. Subito in avanti il Ponte Valleceppi con questo tiro della distanza, respinge e corto l'appazio, ma il tiro del tapin finisce alto sopra la traversa. Poi si vede il Branca in avanti che recrimina un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area. Rivediamo l'azione a rallenti e sembra proprio che ci sia il tocco di mano. L'arbitro lascia proseguire. Poi in avanti il Branca con questa demivolée para il portiere Biscarini. Poi ci prova nella ripresa per ben due volte con Marchi il Branca, ma è bravo Biscarini a mettere in corner. Poi il colpo di testa che finisce a lato e poi il vantaggio del Ponte Valleceppi con Ricci che di testa batte il portiere Lapazio per l'1-0. Ma al 92esimo arriva il pareggio di Bontempi subentrato nella ripresa che porta il Branca in parità. 1-1. Poi ancora il Branca in avanti proprio nei minuti di recupero, ma è bravo Biscarini a parare a terra. Finisce 1-1.